Buongiorno a tutti, sono Alberto Pizzo, Product Manager Scappin. Vi vengo a presentare la bici che quest'anno utilizzerà il nostro team ufficiale di Granfondo, Mountain Bike, Scappin Factory. Quest'anno in dotazione ai ragazzi abbiamo dato l'Oraclo 29. Oraclo è un prodotto nuovissimo, di nuova concezione, è stato studiato appositamente per riuscire ad avere un'ottima geometria per questa nuova tipologia di biciclette. Abbiamo già delle soluzioni tecniche molto interessanti come lo sterzo conico da un pollice e mezzo per una maggiore rigidità sull'anteriore e una maggiore stabilità di guida. Movimento centrale presfita, è un movimento che consente di andare ad allargare la zona del movimento centrale per dare una maggiore rigidità alla bicicletta e anche una migliore resa estetica andando a nascondere all'interno le calottine che solitamente restano fuori in battuta. La pinza freno è stata integrata all'interno del carro posteriore appunto per riuscire a dare ancora una maggiore resa alla frenata perché posizionandoli la pinza freno si sceglie una frenata più uniforme oltre che un'estetica molto più elegante e minore rischi di strappo da parte della pinza posteriore. Il telaio, come vedete, è un telaio in carbonio monoscocca T700, uno dei migliori materiali utilizzati in commercio quest'anno. È una bicicletta che ha i passaggi cavi completamente integrati, passaggi cavo che Scarpin studio ormai da anni da quando sono iniziate ad essere utilizzati come trend soprattutto da tutti i maggiori costruttori. sono studiati apposta per evitare qualsiasi frizione all'interno del tubo oblicuo, quindi il filo senza nessun tipo di guai all'interno viene passato appunto e ha il vantaggio di avere praticamente la stessa resa del filo esterno, però diciamo molto meno problematiche di usura. Scarpin ormai da anni, come sapete, cerca di dare sempre migliori prodotti con una linea estetica molto curata e rifiniture di tutto rispetto come ad esempio anche semplicemente pensare con l'arino che è pantografato, inciso, con doppia tenuta. Scarpin è sempre stato riconosciuto da tutti quanti come un marchio di avanguardia e stiamo trasferendo, diciamo, la cura dei dettagli che è sempre stata messa nell'acciaio anche nei prodotti in carbonio che stiamo sviluppando negli ultimi anni. Grazie. Grazie.